Lino Ortisi, oggi ti abbiamo visto in veste di terzino sinistro, in questo nuovo ruolo come ti trovi? Un ruolo dove il mister mi sta provando da giorni, quindi ce la metterò tutta per provare a giocare in quel ruolo e aiutare la squadra. E' la prima volta che lo fai in carriera? Sì, ovviamente un ruolo inventato dal mister, ho provato, non lo so, comunque sì, è il primo mister che mi inventa in quella posizione e quindi io in settimana, a giorni, lavorerò e vediamo cosa succederà. Arretari sempre di più perché già in Silla eri scalato a centrocampo? Sì, il mister mi sta provando in più ruoli, attualmente mi ha detto di provare lì e io sono a disposizione su a cento per cento, quindi non ho nessun problema a arretrare il terzino. Un bel esordio per il pareggio alla fine ma soprattutto per l'atteggiamento che è piaciuto anche ai tifosi? Sì, penso che siamo andati con il pio giusto a Cerignola, con una squadra molto molto forte, noi ci siamo tirati indietro, abbiamo giocato a viso aperto fino all'ultimo minuto, poi un gran pareggio e sono contento che i tifosi hanno apprezzato il nostro impegno, ma noi ce la metteremo tutta da qui a fine campionato senza nessun problema. Sul piano personale avverti che questa per te possa essere una stagione importante, vista anche la stima del mister che ti prova in più posizioni? Sì, io col mister ho un rapporto veramente stupendo, infatti di questo ne sono veramente grato. Per me questo qui non è importante perché sono in pieno della mia carriera, quindi serve a me per acquisire più esperienza e con la scusa e con l'aiuto del mister speriamo di fare bene. Rinviata la partita con la Casertana, in dubbio quella con il Taranto, diciamo che dopo tutto questo lavoro fisico, questa grande brillantezza, fermarsi forse non è il massimo, è un peccato. Il mister ovviamente sa quello che deve fare, quindi non so dirti se è un bene o un male, però noi in settimana spingiamo come se fosse sempre partita domenica, quindi o settimana prossima, tra due settimane noi saremo pronti.